E passiamo ora alla cronaca, aggressione rapina ad un commerciante in Piazza Pepe a Campobasso arrestato dalla polizia, un giovane extracomunitario, vediamo. Un 32enne libico è stato arrestato dalla polizia di Campobasso perché responsabile di una rapina ai danni del proprietario di un noto caffè della città. Il titolare dopo la chiusura dell'attività all'alba è stato raggiunto dallo straniero che, aggredendolo al collo, ha preteso la consegna del contante. Alla risposta negativa il 32enne ha sferrato un pugno al commerciante strappandogli la borsa contenente e un computer del valore di 2.000 euro per poi fuggire. Con il titolare c'era una dipendente che ha subito chiamato la polizia. Grazie alla descrizione fornita l'extracomunitario è stato individuato dagli agenti nei pressi di via Sant'Antonio Abate con addosso ancora la borsa rubata. Portato in questura, il libico ha inoltre inveito contro gli operatori afferrando il contenuto della spillatrice ed ingerendolo. Trasferito in ospedale dopo la somministrazione di calmanti è stato condotto nel carcere del capoluogo. Da alcuni giovani di Campobasso la polizia ha appreso che il malvivente è un soggetto violento, prepotente, con aggressività spiccata per futili motivi. Lo stesso si sarebbe reso responsabile di altri atti di prevaricazione non portati all'attenzione delle forze dell'ordine per paura di ritorsioni. Le indagini da parte della polizia di Stato sono in corso.